Come al solito, sono uscito con il mio cane Snoopy a portare l'immondizia in via Giovanni Antonio da Pesaro, Santa Veneranda, vicino a Bar Fabio. È successo che all'improvviso, mentre mi recavo i bidoni, mi vedo di fronte due cani Pitbull, sciolti, praticamente senza guinzaglio, senza muservola, senza niente, che mi sono corso incontro e mi hanno ferrato il cane. Io ho cercato di alzarlo, ma me l'hanno strappato dalle mani e me l'hanno preso a morsi e non l'hanno più lasciato e lo sbattevano a destra e a sinistra fino a che l'hanno straziato, una roba impressionante, neanche nei film succede una roba così. Io insieme al padrone che era corso insieme a me abbiamo cercato di liberare questi cani dal mio cane, ma praticamente è talmente feroce erano che l'hanno sbattuto a destra e a sinistra come fosse una pezza da piedi, fino a che non l'hanno straziato, sbriciolato si può dire. A un certo punto hanno lasciato il cane perché l'hanno visto che era morto e in quel punto lì avevo tutti i vestiti insanguinati, le scarpe, i pantaloni, anche il giubbotto, tutto insanguinato per cercare di difendere il mio cane. L'ultima cosa che ho fatto è accarezzare il mio cane perché vedevo che gli mancavano dei pezzi proprio, ho cercato di toccarli il musino e lui mi ha dato un leggerissimo leggerissimo morsino come per dire ciao ti saluto. E' una cosa straziante, non capiterà mai a nessuno, ma ne auro nessuno. A questo punto, visto che il cane era morto, ho chiamato la AS di Vianetti che ha mandato un loro vetrinario per controllare l'accaduto e poi ho chiamato anche i vigili urbani per venire a fare un piccolo verbale, sapere cos'era successo e non era successo, hanno fatto delle foto, ha visto anche loro come era successo. Per noi è stata una cosa, una perdita impressionante. Io e mia moglie siamo straziati, non riusciamo più neanche a guardare dove andiamo perché le nostre abitudini era talmente insieme al cane che era un figlio per noi. E' una cosa fuori di testa, è straziante. Ancora stiamo piangendo, da tre giorni o mai che è successo, ancora stiamo piangendo per questo motivo.